La gente sta lottando per contrastare un'ondata di caldo da record che continua a peggiorare. Ora alle prese con violenti uralani. Intere città sono ridotte in cenere. Questi incendi sono una forza altamente distruttiva. La reforestazione sta accelerando rapidamente. I livelli di ossigeno precipitano a causa della deforestazione. La lotta all'estinzione oggi ha perso la guerra. In Amazonia è stata registrata la fine dell'ultimo albero sulla terra. Baste aree di alghe oceani che stanno morendo. L'inquinamento in Europa è ormai fuori controllo. Le malattie respiratorie ora sono fatali. Più grande genocidio in più di cento paesi. La vita vegetale si è istinta per l'eccessiva domanda. Le probbitte stanno esaurendo. Gli enti di beneficenza locali sono al collasso. La sovrappopolazione in Africa e in Medio Oriente è catastrofica. L'ignalazione di caldo fa bisogno di ossigeno. Le forniture di ossigeno sintetico sono esaurite. Secondo un rapporto migliaia di persone soffocano per mancare. E ora anche il Canada è fuori gioco. Abbiamo perso l'India. Dopo me perso il vero. La Germania è offline. La Cina ora è completamente a buio. La riserva di ossigeno è ormai esaurita. I sopravvissuti alle inondazioni si dirigono verso l'ultima città non ancora a buio.